Buonasera, ben trovati. Cominceremo tra pochissimo il telegiornale con una notizia appena diffusa. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, è intervenuto in prima persona sul conflitto a Gaza, come con una telefonata al premier israeliano Netanyahu, nella quale ha ribadito con fermezza che prima di qualsiasi operazione militare è necessario mettere in sicurezza la popolazione. Vi ricordo che a Rafa, che è la città più meridionale della striscia di Gaza, sono sfollati oltre un milione e mezzo di palestinesi. Sembra la conseguenza di quello che già questa mattina il Washington Post aveva scritto, ovvero che Biden e i suoi consiglieri mai erano stati così vicini a una rottura nei confronti del premier Netanyahu. E si tratta infatti della prima telefonata tra i due da quel 19 gennaio in cui Biden disse che in realtà la reazione di Israele era stata eccessiva. dopo il 7 ottobre. Per la verità sono giorni che i diversi paesi dicono a Netanyahu di aspettare, di non portare avanti l'operazione militare, perché questo potrebbe avere conseguenze disastrose. Lo ha ribadito l'Egitto, lo ha ribadito l'Arabia Saudita. Naturalmente servirebbero facta e non verba, insomma le parole contano poco relativamente. Sentiremo in apertura del giornale dalla nostra inviata quali sono infatti le reazioni in Israele a questa telefonata e soprattutto i piani di Netanyahu. Cercheremo di capire anche dove eventualmente potrebbero sfollare i palestinesi che sono appunto in questo momento nella città di Rafah. Il conflitto a Gaza in realtà sta e fa discutere anche la politica italiana, complice a un episodio che sicuramente avrete seguito che è accaduto a Sanremo, perché uno dei cantanti gali sul palco dell'Ariston ha dichiarato stop genocidio, parole che non sono affatto piaciute all'ambasciatore israeliano in Italia e sulla scorta di questo si è aperta una discussione tra maggioranza e opposizione proprio sulla questione palestinese. Sentiremo le diverse posizioni, in particolare sentiremo il messaggio che è stato lanciato alla Presidente del Consiglio Meloni da parte della segretaria del PD Elish Line, una convergenza su questo argomento e proprio sulla importanza di non far partire un attacco militare sul Rafah prima di aver messo in sicurezza la popolazione. Ci sarà anche morta cronaca però, in particolare due notizie che hanno scioccato l'opinione pubblica nelle ultime ore. La prima si è consumata a Palermo, una strage familiare, un uomo di 54 anni che ha ucciso la moglie, e due figli di 16 e di 3 anni, è sopravvissuta soltanto l'altra figlia di 17 anni che è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Ancora non è chiara la dinamica nei tempi di questa strage, quel che sembra che alle spalle ci sia una filiazione a una setta satanica, ma sono tutte ipotesi che gli inquirenti stanno vagliando in questo momento. E' altrettanto grave quanto è accaduto in provincia di Roma, a Manziana, un uomo che è stato sbranato, letteralmente ucciso da tre rottweiler mentre passeggiava in un bosco appunto nella cittadina di Manziana. Torneremo anche sulla protesta dei trattori in vista della manifestazione del giovedì prossimo che possiamo dire in un certo senso sta spaccando all'interno il movimento, cercheremo di capire perché. Vi faremo vedere anche l'immagine dell'incontro tra il presidente argentino Milei e il suo compatriota Papa Francesco si sono riconciliati, diciamo così, i due anche se alla maniera di Milei e sentirete e vedrete soprattutto perché. E ci sarà spazio anche per lo sport perché gli atleti azzurri sono tornati in vasca alle Olimpiadi del nuoto di Doha e è arrivata la prima medaglia. Intanto vi aspetto tra qualche secondo per i titoli. Gli Stati Uniti rafforzano il pressing su Israele per evitare un'ecatombe a Rafa. Il presidente Biden ha chiamato poco fa il premier israeliano Netanyahu nel colloquio gli ha ribadito che l'operazione militare progettata da Israele non dovrebbe partire senza un piano credibile per assicurare la sicurezza e il sostegno umanitario al milione di persone e oltre rifugiate intorno al Valico con l'Egitto. E le notizie in arrivo dal Medio Oriente hanno spinto la leader del PD Elislein a sollecitare un'iniziativa di pace da parte di Giorgia Meloni per la quale arriverebbe anche il sostegno del PD. Palazzo Chigi chiama invece in causa la leader Demme chiedendole di prendere le distanze dal governatore Campano De Luca per i duri attacchi al governo sui fondi di coesione per il sud. In piena campagna elettorale c'è una nuova escalation verbale di Donald Trump che si scaglia contro gli alleati europei. Il leader repubblicano ha detto che non esiterebbe a incoraggiare la Russia ad attaccare le nazioni della Nato che non rispettino i loro impegni di spesa per gli armamenti. Per il presidente del Consiglio europeo Michelle le parole di Trump sono fuori luogo e aiutano soltanto Putin. Aghiacciante strage in famiglia nel Palermitano un uomo ha ucciso la moglie e poi l'ha bruciata, ha strangolato due figli di 3 e 16 anni poi si è costituito raccontando di averli uccisi per liberarli da una possessione demoniaca. Si è salvata solo un'altra figlia di 17 anni che è stata trovata in stato di shock. Sotto interrogatorio c'è anche una coppia che potrebbe aver aiutato l'uomo nella sua azione. Cambio di passo verso il Vaticano del presidente argentino Milei che ora cerca una sponda nel Papa per poter attuare le sue contestate riforme sociali. Dopo gli insulti lanciati contro Bergoglio durante la campagna elettorale Milei oggi ha abbracciato in Vaticano Papa Francesco. Domani il presidente argentino sarà ricevuto in udienza e il Papa potrebbe decidere a breve un viaggio a Buenos Aires. Buonasera, ben trovati. Dopo i tanti viaggi del segretario di Stato americano Blinken nella zona medio orientale questa volta oggi nella serata di oggi è sceso in campo in prima persona il presidente degli Stati Uniti per cercare di dirimere la questione non soltanto della guerra a Gaza ma in particolare dell'attacco militare verso Rafah che è il confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto la parte più meridionale della striscia dove sono sfollati oltre un milione e mezzo di palestinesi 600 mila sono bambini tanto per capire di che cosa stiamo parlando e come sapete il valico di Rafah è chiuso, è bloccato e un attacco militare verso il campo profugo degli sfollati evidentemente si trasformerebbe in una strage senza nessun appello proprio per questo il presidente degli Stati Uniti ha telefonato in prima persona al premier israeliano Netanyahu Il suo nome nei manifesti appesi di fronte alla Knesset una richiesta di aiuto a Joe Biden che ha appena concluso un colloquio telefonico con il premier Netanyahu la prima volta da giovedì quando aveva bollato come esagerata la reazione militare di Israele a Gaza La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente USA ha esortato il premier Netanyahu a non attaccare Rafah senza un piano credibile ed eseguibile per garantire la sicurezza ad oltre un milione di persone che vi trovano rifugio Secondo il Washington Post si è formato un solco tra la Casa Bianca e Bibi Netanyahu finita nel gelo la missione del segretario di Stato Antony Blinken mandato da Biden per cercare di aprirgli gli occhi o forse meglio il cuore sulla disperata situazione dei civili di Gaza sulla necessità di far entrare nella striscia la più alta quantità di aiuti ed evitare ad ogni costo un attacco su Rafah Alla Casa Bianca erano arrivati anche gli insulti dell'alleato dell'ultradestra Bengvir sconfessato con poca convinzione Eppure Biden crede ancora alla possibilità di riaprire concretamente il dialogo tra le parti in guerra per arrivare alla liberazione degli ostaggi con un cessato il fuoco necessari per evitare che la città a sud della striscia diventi il campo dell'ultima battaglia di Netanyahu per raggiungere la vittoria finale Si rincomporrebbe secondo diverse fonti la tela diplomatica Sarebbe pronto a partire dall'Angla e ancora una volta il capo della CIA William Burns mandato per provare a chiudere almeno la prima parte dell'accordo di Parigi Hamas questa mattina per voce di Muhammad Nizal una figura non secondaria confermata dal Jazeera che il movimento chiede il minimo delle loro richieste e Netanyahu che vuole la guerra che continui per restare al potere Si ritroveranno di nuovo al Cairo probabilmente martedì i quattro si conoscono bene il responsabile del Mossad Barnea, il grande mediatore catariota il premier Altani con il ruolo di riferire alla delegazione di Hamas alla quale sta parlando da giorni il responsabile dei servizi egiziani Abbas Kamel Di fronte al Parlamento di Gerusalemme questa mattina alcuni familiari degli ostaggi hanno fermato così il traffico poco prima che le brigate Zedin al-Kassam diffondessero un altro video in cui hanno annunciato la morte di due ostaggi e il ferimento di altri otto sotto un bombardamento israeliano una guerra psicologica atroce quella portata avanti da Hamas del resto venerdì l'esercito aveva ammesso dopo un'inchiesta che un ostaggio Yossi Sharabi, pacifico abitante del Kibbutz Beri era morto per il crollo di un edificio vicino a quello colpito dall'aviazione israeliana per eliminare una cellula terroristica Mercoledì una delegazione dei familiari degli ostaggi sarà a Laia per presentare alla Corte Penale Internazionale una denuncia per torture, rapimenti e crimini sessuali violenti la speranza è anche che venga emesso un ordine di cattura per i vertici di Hamas Avete sentito nel servizio della nostra inviata Silvia Brasca che le richieste da parte del Presidente degli Stati Uniti Biden a Netanyahu è che si faccia uno sfollamento credibile una messa in sicurezza credibile ed eseguibile Che cosa significa però tutto questo? In un posto dove il resto della striscia è di fatto devastato pensate che il 70% degli edifici di Gaza sono stati distrutti di tutta la striscia e dall'altra parte vi dicevo c'è il valico di Rafah a confine con l'Egitto che è chiuso, sigillato e nessuno può passare Non si può raggiungere l'obiettivo di eliminare Hamas lasciando quattro dei suoi battaglioni a Rafah dice Benjamin Netanyahu in questa intervista alla TV americana ABC Al contrario l'intensa attività Rafah richiede che i civili abbandonino le aree di combattimento Rafah, striscia di Gaza l'ultimo rifugio per migliaia e migliaia di persone che in questi quattro mesi di guerra hanno perso tutto prima le loro case e poi spesso anche i loro primi rifugi spinti sempre più a sud dall'avanzare dell'esercito israeliano in questo fazzoletto di terra che veniva già considerato tra le aree più sovrappopolate al mondo abitavano prima del 7 ottobre circa 280.000 persone adesso si calcola che ci vivano, o meglio che ci sopravvivano, oltre un milione e mezzo di sfollati arrivati qui scappando dai bombardamenti e dagli attacchi dei carri armati portandosi dietro quel poco che potevano tra di loro, cifra diffusa dall'Unicef due giorni fa, ci sono anche 600.000 bambini bambini già traumatizzati in condizioni precarie vista la mancanza di adeguato rifugio, di nutrimento adeguato, di cure sanitarie adeguate foto satellitari diffuse da Al Jazeera mostrano la crescita esponenziale delle tendopoli a Rafa in questi quattro mesi di guerra Netanyahu ha chiesto al suo esercito di preparare un piano di evacuazione per questa gente ci sarà un corridoio, ha detto un corridoio per dove, però, nessuno ancora lo sa dall'altra parte del muro che separa Gaza dall'Egitto si stanno già preparando nuove difese di là non si passerà di certo anzi, l'offensiva su Rafa rischia di far chiudere uno dei due valichi da cui passano gli aiuti umanitari, già largamente insufficienti se non sarà verso sud, l'evacuazione dei palestinesi dovrà necessariamente essere rivolta a nord cioè in quelle aree già devastate dalla guerra dove far arrivare gli aiuti sarà ancora più difficile secondo quanto hanno dichiarato fonti del World Food Program alla BBC quattro dei loro ultimi cinque convogli con rifornimenti di cibo sono stati bloccati di questa situazione per una strana sincronia degli eventi si è discusso anche durante il Festival di Sanremo perché uno dei cantanti, Gali, salito sul palco ha dichiarato stop genocidio queste dichiarazioni hanno creato una polemica molto forte con l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, il quale si è indignato, così ha scritto su X, per le dichiarazioni fatte durante il Festival senza mai citare Gali evidentemente il riferimento era alle sue parole e questo si è riverberato anche nel mondo politico e quindi ogni partito, ogni parte ha preso posizione su questa decisione di Alon Bar e la segretaria del Partito Democratico Schlein ha deciso di lanciare un'offerta diciamo bipartisan alla Presidente del Consiglio Meloni Il governo si attivi per la pace e noi ci saremo Elie Schlein annuncia una prossima telefonata a Giorgia Meloni per sollecitare un cessate il fuoco a Gaza in un'intervista al Corriere della Sera la segretaria PD dice che bisogna fermare Netanyahu e l'attacco a Rafa per evitare un'ulteriore ecatombe è necessario che il governo si attivi, dice Schlein non abbiamo visto fin qui un'azione diplomatica e politica all'altezza della tradizione italiana chiamerò Meloni per sollecitarla se il governo mette in campo un'iniziativa per la pace e il Medio Oriente noi ci siamo l'occasione per una prima convergenza le mozioni sul Medio Oriente al voto da martedì alla Camera il governo sostenga la mozione del PD l'appello della capogruppo Dem Braga dal governo e della maggioranza per ora nessuna risposta la Premier chiama in causa la segretaria PD su altro le offese del governatore Campano De Luca nei confronti del governo bollato con una serie di epiteti imbecilli, farabutti, delinquenti politici per la vicenda dei fondi di coesione per il Sud Meloni chiede a Schlein di prendere le distanze abbiamo atteso un segno di dissociazione e di condanna finora inutilmente se non arrivasse prenderemo atto del fatto che questi sono gli impresentabili metodi democratici del PD attacca la Premier come al solito Meloni sposta l'attenzione della vera questione che sono le scelte antimeridionaliste del governo non c'è bisogno del turpiloquio per attaccare disastrose scelte del governo non replica la segretaria PD sottolineando che certi toni non le appartengono da parte sua De Luca non rinuncia a replicare alla Premier non si finga turbata per qualche più che meritata sciabolata verbale io e lei siamo abbastanza animali politici la invito a sbloccare rapidamente risorse che appartengono al Sud molto più estremizzata nei toni è la campagna elettorale che si sta svolgendo negli Stati Uniti è uscito un ultimo sondaggio sul Financial Times in cui evidentemente l'aumento dei consensi per Trump è continuo è 11 punti avanti rispetto alle questioni economiche ovvero il 42% degli americani ritiene che Trump sarebbe un amministratore dell'economia migliore rispetto a Biden ma come si sa i sondaggi lasciano il tempo che trovano quello che invece continua a fare Trump è quello di lanciare provocazioni verbali questa è l'ultima la Casa Bianca si dice costernata l'Europa spaventata del resto le dichiarazioni di Donald Trump su quello che potrebbe essere la sua politica estera se dovesse tornare presidente non lasciano grande spazio al pensiero diplomatico incoraggerò la Russia a fare ciò che vuole con i paesi della Nato delinquenti ovvero quelli che non rispettano le linee guida dell'alleanza che prevedono una spesa di almeno il 2% del PIL per la difesa non difenderei un paese del genere un paese che non paga ha detto Trump lasciando intendere che non rispetterebbe la clausola di difesa collettiva su cui si fonda l'alleanza l'articolo 5 del trattato atlantico prevede che qualsiasi attacco armato contro uno degli alleati venga considerato come un attacco all'intera alleanza e che ciascun paese prenda le adeguate misure per intervenire in soccorso del paese aggredito è successo in Carolina del Sud a Conway durante un comizio elettorale incalzato da un elettore per rendere meglio l'idea Trump ha raccontato un episodio di quando era presidente uno dei leader di un grande paese si è alzato in piedi e ha detto bene signore se non paghiamo e veniamo attaccati dalla Russia ci proteggerete non hai pagato? sei un delinquente ho risposto no, non ti proteggerei anzi, li incoraggerei a fare quello che diavolo vogliono parole spaventose e sgangherate afferma la Casa Bianca a cui fa eco immediatamente lo stesso segretario generale della Nato mi aspetto ha detto Jens Stoltenberg che indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali gli Stati Uniti resteranno un forte e fedele alleato all'interno della Nato ogni diversa affermazione metterebbe a rischio la sicurezza di noi tutti inclusa quella degli Stati Uniti esponendo i soldati americani ed europei a rischi crescenti da Bruxelles infine emerge con forza un ulteriore punto oggetto da tempo di grandi riflessioni parole come quelle di Trump afferma il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel evidenziano ancora una volta la necessità e l'urgenza per l'Unione Europea di sviluppare una sua autonomia strategica e di investire nella difesa e a proposito di Nato lo ricorderete che nell'aprile del 2023 la Finlandia è entrata nella Nato è stato il trentunesimo paese ad entrare nell'Alleanza Atlantica dopo mesi di opposizione fortissima da parte della Turchia oggi si sono svolte proprio in Finlandia le elezioni e sono usciti ora i risultati l'ex premier ed esponente di centrodestra Alexander Stab ha vinto il ballottaggio e dunque è stato eletto nuovo presidente della Finlandia miniamo notizie italiane ce n'è una in particolare di cronaca nera è davvero il caso di dirlo che si è consumata a Palermo una strage familiare l'hanno interrogato per ore e Giovanni Barreca ha continuato a ripetere di aver sterminato la famiglia per liberarla dai demoni è stato lo stesso muratore 54enne ad avvertire i carabinieri al telefono ha detto poche parole mi chiamo Giovanni Barreca ho ucciso tutta la mia famiglia venite a prendermi ha aspettato i militari a Casteldaccia a pochi chilometri dalla villetta della strage ad Altavilla Milicia comune alle porte di Palermo l'uomo reo confesso dei delitti della moglie Antonella Salomone di 41 anni e dei due figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5 non ha dato alcuna motivazione razionale del suo gesto ma ha continuato a ripetere di essere convinto della presenza del demonio in casa sua Barreca ha detto ai militari di aver bruciato e sepolto il corpo della donna i resti carbonizzati sono stati ritrovati poi nel pomeriggio sotto un cumulo di terra vicino alla casa della coppia i due figli sarebbero stati strangolati con una catena la terza figlia della coppia una diciassettenne è stata ritrovata illesa e in forte stato confusionale la ragazza ha detto ai carabinieri che suo padre si sarebbe alzato venerdì notte farneticando di avvertire presenze demoniache non è ancora chiaro se la giovane sia stata drogata o sedata dal padre il triplice omicidio secondo gli investigatori sarebbe nato in un contesto familiare di fanatismo religioso l'uomo si professava di fede evangelica ma il pastore della chiesa di altavilla milicia ha detto che lui non ha mai partecipato alle funzioni la moglie invece ha raccontato il pastore frequentava la chiesa ma poi non l'ho più vista successivamente l'ho incontrata e mi ha detto che facevano incontri di preghiera in casa con altre persone secondo gli investigatori Giovanni Barreca non avrebbe compiuto la strage da solo ma aiutato da una coppia portata in caserma ed ancora sotto interrogatorio con loro il muratore e la moglie si incontravano per pregare secondo la vicina di casa l'uomo picchiava la donna lei era mite faceva la badante e le pulizie in comune racconta e voleva tornare a Novara dove tutta la famiglia aveva vissuto fino a 5 anni fa anche in provincia di Roma a Manziana si è consumata una tragedia vittima questa volta un uomo che stava passeggiando nei boschi limitrofi alla città è stato aggredito sbranato ed ucciso da tre cani tre Rottweiler era uscito poco dopo le 8 del mattino per correre nel verde di Manziana a pochi chilometri da Roma sulla sua strada ha però incontrato tre cani di razza Rottweiler che lo hanno sbranato e ucciso i cani erano incustoditi si erano allontanati da una villetta poco distante dal luogo dell'aggressione Paolo Pasqualini 39 anni residente a Manziana non ha potuto far nulla i tre Rottweiler lo hanno azzannato procurandogli profonde ferite al volto e su tutto il corpo ha cercato di difendersi coprendosi con le braccia e urlando per chiedere aiuto a poco è servito il tentativo di intervenire da parte di un pastore che con un bastone ha evitato di essere aggredito a sua volta e dopo essersi rifugiato dentro la sua auto ha chiamato i soccorsi i carabinieri e i guardi a parco non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo gli accessi al parco frequentato la domenica da sportive e famiglie con bambini sono stati immediatamente sbarrati due ore dopo gli accalappiacani hanno individuato e catturato i tre rottweiler dopo averli addormentati con proiettili sedativi poco dopo è stata identificata la coppia proprietaria dei cani questa mattina nell'abitazione da cui erano fuggiti i tre rottweiler era presente solo la moglie che però non si sarebbe accorta di nulla si dovrà capire come siano riusciti a uscire i tre animali in ogni caso i proprietari rischiano di essere incriminati però messa a custodia e omicidio colposo torniamo a parlare della protesta degli agricoltori che con i trattori hanno sfilato lungo diverse cittadine italiane in vista di una manifestazione che si terrà a Roma il prossimo giovedì proprio su quella manifestazione si è aperta una discussione anche onoiata una frattura all'interno del movimento cerchiamo di capire perché dal casello di Melegnano alle porte di Milano il presidio degli agricoltori si è spostato di un centinaio di metri in un ex capannone del consorzio agricolo in pausa ma pronti a mettere in moto i trattori così come sulla Nomentana nelle coline romane in questo fine settimana di tregua l'attesa è per domani quando come promesso dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo l'incontro a Palazzo Chigi venerdì con i rappresentanti delle associazioni di categoria sarà presentato un emendamento al mille proroghe che prevede le esenzioni dell'IRPEF per quest'anno per i lavoratori agricoli con redditi inferiori ai 10.000 euro è un primo passo che va incontro ai più deboli diceva la Premier confermando la volontà di aprire un tavolo di coordinamento per affrontare le criticità del settore e che è servito per ora a placare le proteste degli agricoltori con blocchi e marce dei trattori che vanno avanti da due settimane agricoltori che però appaiono divisi su come portare avanti la mobilitazione per giovedì pomeriggio è stata annunciata dal CRA il comitato che si definisce degli agricoltori traditi la manifestazione con 15 trattori pronti a sfilare fino al cuore di Roma dove ad attenderli al Circo Massimo potrebbero esserci fino a 20.000 persone sarà la prima di una serie di manifestazioni ha spiegato il leader Danilo Calvani che si fermeranno solo quando saranno accolte le istanze della categoria dalla revisione da parte di Bruxelles degli accordi con i paesi extra Unione Europea al controllo dei prezzi della filiera al Circo Massimo sono invitati tutti gli altri movimenti in mobilitazione nati in questi giorni di proteste i problemi della categoria sono gli stessi per tutti dice sempre Calvani ma l'altro fronte il comitato riscatto agricolo ha già fatto sapere che non ci sarà non saremo in piazza per timore in infiltrazioni violente ha detto il leader Salvatore Faiz specificando che resteranno invece al presidio sulla Nomentana dove era andato venerdì il ministro Lolo Brigida prima della partenza dei trattori sul raccordo anulare giovedì è previsto anche un sitino organizzato dal Popolo Produttivo e Altre Agricolture in piazza del Campidoglio per chiedere le risposte che servono alle categorie produttive intanto a Roma c'è invece il presidente argentino Milei le condizioni economiche del paese come sapete sono piuttosto disastrose e Milei sta cercando di far passare una terapia shock è evidente che se non arrivano segnali di ripresa la sua popolarità è severamente a rischio oggi intanto ha tentato un avvicinamento una riconciliazione con Papa Francesco che lo ha ricevuto una riconciliazione che è avvenuta a modo suo L'essere entrambi argentini è forse l'unica cosa che hanno in comune Bergoglio e Javier Milei il Papa dei poveri e delle vigias miserias le baraccopoli di Buenos Aires e il presidente neoeletto ultracapitalista che ha annunciato riforme iperliberiste e drastici tagli alla spesa sociale già duramente contestati dalle piazze argentine per la prima volta i due oggi si sono incontrati ed è successo a San Pietro nel giorno della canonizzazione di Maria Antonia de San José meglio conosciuta come Mamantula la prima santa argentina a fine cerimonia è Papa Francesco che in sedia a rotelle va incontro al presidente argentino una stretta di mano qualche battuta scambiata e poi un abbraccio il rituale per nulla scontato perché Milei in campagna elettorale non ha risparmiato critiche feroci e insulti a Bergoglio gesuita che promuove il comunismo rappresentante del male nella casa di Dio persona nefasta per finire con un esplicito imbecille rivolto al primo Papa argentino durante una trasmissione tv a casa Rosada conquistata Milei si è scusato spiegando che in campagna elettorale si è portati ad esagerare e si perde il controllo ma quelle parole non sono certo passate inosservate in Vaticano incidenti diplomatici che per ora sembrano superati perché come ha spiegato il vescovo di Buenos Aires Querva il Papa è uomo capace di perdonare e riconosce l'importanza delle relazioni istituzionali l'incontro tra i due è naturalmente la notizia del giorno per la stampa argentina che ha rilanciato il primo commento di Milei sull'abbraccio è stato fortissimo non ci posso credere avrebbe confidato il presidente che ha postato su Instagram un maiuscolo muchas gracias domattina Milei atteso in Vaticano per l'udienza vera e propria dopo l'incontro Bergoglio potrebbe decidere di annunciare finalmente le sue viaggi in Argentina nel secondo semestre dell'anno un ritorno a casa che manca dall'elezione del 2013 Milei sempre domani incontrerà anche Sergio Mattarella e Giorgia Meloni che è stata la prima a chiamarlo dopo la vittoria di novembre e che ha sottolineato i profondi legami storici e culturali che uniscono Roma e Buenos Aires C'è ancora tempo per parlare della prima giornata del nuoto in Vasca ai mondiali di nuoto in Qatar a Doha che ci ha regalato ha regalato agli azzurri una medaglia L'orgoglio e la solidità degli azzurri che si confermano d'argento in una gara stellare esaltata dalla prestazione di una cena strepitosa al punto che il primo frazionista Zanie Pan stabilisce il nuovo record del mondo dei 100 con il crono di 46,8 6 centesimi in meno del precedente di Popovici la sua partenza fulminante spiazza un po' Alessandro Miresi ma Super Mirex tiene duro prima di passare il testimone a Lorenzo Zazzeri meno brillante rispetto alla prestazione della mattina i nostri moschettieri non vogliono mollare la matricola Paolo Conte Bonin sfoggia una prova di grande carattere per chiudere sul podio la forza dell'esperienza di Manuel Frigo che nella semifinale era stato sostituito da De Plano per essere più fresco per l'Italia adunque il bis dopo l'argento conquistato a Fukuoka l'anno scorso che aveva già garantito il pass per Parigi 2024 dove i nostri staffettisti si presenteranno le vice campioni olimpici niente podio invece per le ragazze del 4% che chiudono solo al quinto posto ma anche Morini Cocconcelli Menicucci e Tarantino si qualificano per i giochi visto olimpico anche per la nazionale pallannuoto il CT Campagna che batte gli Stati Uniti 13 a 12 e nei quarti di finale affronterà la Grecia Ci fermiamo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti vi aspetto Eccoci una vendirata stavo controllando ma non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata e ancora una buona domenica grazie a tutti grazie a tutti